Vedi che c'è un tetto di nuvole che sta per incontrare. Bisogna accontentarsi di questa messa a fuoco, ma è un fallimento. L'immagine è buona, quindi sta andando a contatto con il tetto di nuvole che ci abbiamo. 29 gennaio 2020, avvicinatevi ragazzi. Il tramonto mediato dallo strumento non è il tramonto vero, il tramonto vero è quello là. Il problema è che non riusciamo a sparare a quelle nuvole che si trovano sulla Sardegna e che non erano state rilevate dal satellite, perché il sole sta andando in questo momento a contatto. Allora, insomma, sono enormi, cerchiamo a base delle nuvole, eh? Il tramonto è già in piena limitazione, osservate un po' di rinforzamento. Oh, facciamo il vostro modo! Eh, sbrigatevi perché è già iniziato, eh? Io non mi ricordo che si chiama, sicuramente. Io sono comandato inizio. Ma perché hanno vari numeri? Sono le 17, 14 e 55 secondi al fischio e 15 secondi al fischio. Fa fede anche la campana di Santa Teresina. E' un'altra volta. E' un po' di rinforzamento. E' un po' di rinforzamento. Sì, no? Sì. Eh, ma non mangia a lungo. Io questo video cambiavo solo. Perché il video lui cambia settaggi. Infatti quando ce n'hai uno, ti prendi quello che ti dà e basta. Perchè lei non abbassa la luminosità adesso? Eh? Non abbassa la luminosità. Che c'ho 18 mm di obiettivo torano. È più grosso per più. Però secondo me si vede meglio. Sì. Non devo guidare. Stiamo ammannando. Si è messi a fuoco la macchina. Anche qui abbiamo un tetto di nuvole a una distanza da valutare. Che potrebbe essere sempre di 250 km. In realtà se puoi fare il video proprio nell'ultima fase lo tieni alto. Ok. Poi confrontiamo. Confrontiamo. Dimmi quando sei partito. Devi infinarlo oppure no. Devi guardare il suo. Dimmi quando sei partito. Io parto col video. Dove siamo? Sul pontile di Ostia. Il pontile di Ostia. Chi è? Allora segnale orario al fischio 17.17. Adesso ti do il fischio alle 17.17.17. A meno 10 secondi. Stop. No, no. Vai avanti fino alla fine. Uh, se ne sta andando. . Anche qui stiamo con i minuti. Capitato accensivo 17.17. L'ultima fase. Ultima luce. Tu mantieni. Mantieni. In un po' lato che provate. Un po' lato è sparito. L'occhio nudo è sparito. Aspetta riprendiamo pure l'orlogio. Grazie Tramonto sul mare in tempesta Grazie